Siamo visti in questi giorni senza immaginare di fare chissà che cosa, ma offrendo un atto di responsabilità nei confronti dell'Italia a fronte della irresponsabilità del governo. Le frasi dei ministri che dicono se arriveremo a 400 vedremo che fare, sono frasi da irresponsabili. Noi rispondiamo a queste frasi dicendo fermatevi, siamo ancora in tempo e avrete già il foglio, io lo elenco rapidamente, poi lascio applicare il compito di spiegare perché abbiamo fatto queste scelte sia di natura macroeconomica che di singola opzione politica per ciascuna dei sei punti che vado a leggere, ma quello che noi abbiamo fatto è un esercizio di servizio civile, servizio civile al paese.